Ciao ragazzi bentornati sul canale, benvenuto a che nuovo oggi continuiamo la serie di Amravel l'ultimo episodio è stato se non sbaglio quello delle paludi e oggi continuiamo il problema è che non ho più visto fotografie per accedere appunto a un nuovo scenario non so più dove devo andare, scopriamolo insieme mi raccomando ragazzi vi invito sempre a iscrivervi al canale, iscrivetevi ok bisogna andare lì qua aspetta bisogna fare tutto quel casino aspetta quello vuole raggiungere ah si può raggiungere anche di là, il posto è di là va bene, vabbè lunga camminata in montagna vai andiamo a fare la lunga camminata in montagna eccoci qua allora questo qua devo scendere, vedi non ho capito, si mi sa che devo scendere folle no eh, cominciamo con questi moschini, mamma mia l'ultimo episodio nell'ultimo episodio c'erano le zanzare, so se ve lo ricordate, mamma mia qui c'è forse bisogna fare il pendolo vediamo no dobbiamo capire come passare allora non se torniamo indietro e vediamo qualcosa che no qui c'è uno zanzarino, secondo me ci vuole indicare qualcosa ah ok raga, niente, ho scoperto che si, che, vabbè, c'era il sasso, si poteva prendere il sasso vabbè, avanziamo e capiamo ma che ok, qua scommetto che sicuramente bisogna fare poi il trampolino immagino no, perché mi porta il trampolino no, no, aspetta ma invece no, invece non funge la trampolino dobbiamo spostare questo yes yes un corvo no ok, abbiamo recuperato un'altra bobina di filo eh, dobbiamo capito, dovevo avanzare il torneo indietro proviamo a avanzare intanto abbiamo sbloccato un altro ricordo e proviamo a tirarne, sì mamma mia ok uh, bello oh, si sale oh, si sale no, 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 non affogare, non affogare ok, ho recuperato anche una monetina come si sale ok madonna e quindi ah, c'era un altro gancio e non l'avevo neanche visto mamma mia ma quindi devo scendere, raga o questo lo lo chiamo un po' per sicurezza e poi aspetta ok, perfetto l'avevo recuperato no, stavo notando che stava finendo il filo guardate, questo sotto questo fungo c'è un cavo rosso non so cosa possa servire vabbè avanziamo cos'è? oh, oh, oh no aiuto no 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 ok guarda sta cazzoncina di casa e adesso non c'è, uh si che ci arrivo bello 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 ma il problema è olle vabbè scommetto che vabbè scommetto che comunque per recuperare quel bottoncino lì vabbè scommetto che è mamma mia Oh no 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 Infatti stavo notando che si stava strozzando Però Devo recuperare subito Quella barchetta praticamente Ma come? No vuol dire che devo recuperarla magari prima No vuol dire che devo recuperare Vai, 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 vai Vai, vai, vai Cos'è? Ah, bellissimo Oh 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 Ok Ok Sicuramente non servirà qua quindi la spingiamo in giù Eh no Quanto servirà appunto Di qua Però aspetta ragazzi perché io si voglio recuperare il cavo Cioè facciamo così e vediamo se ci fa Ah Ah si vedi No Vedi Così recuperiamo anche il cavo Eh si ma il problema è Si la recuperiamo la monetina Non l'ho capita Ah forse serve per fare il peso No Dobbiamo raggiungere Olè Fatto Semplice semplice Oh no di nuovo sti cosi Corri 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 No No mi mettono l'ansia sti cosi mi mettono l'ansia sti uditori Sì Te l'ho fatta raga Te l'ho fatta Mamma mia Non so se devo andare di qua Ok Lasciamo stare la monetina lì non ci interessa Avanziamo Ah no invece no Invece bisogna recuperare Il cavo Niente mi sono trovato una strada alternativa allora Perché il cavo non ci basta Allora andiamo di qua vediamo se il cavo è di qua Sì sicuramente sì E ora? Eh aspetta non l'ho capita Bisogna capire adesso cosa bisogna fare con questo secchio No No Eh Arriva se scende Ah qua? Ok vabbè abbiamo sbloccato un Un sasso che non so se era Non so se servirà qualcosa Allora Allora raga studiandomi la strada un attimo Studiandomi un attimo la strada Non c'entrava nulla qua perchè io credevo che Eh Eh Bisogna aver legare Il secchio Invece no Perché se noi andiamo a notare Vedete che c'è una strada da seguire no? Quindi è di fare così Portiamo questo sasso fin dove ce lo può far portare E vediamo perchè sai com'è questo gioco no? Vabbè ma qua c'è Ah forse ok il sasso serve solo per farci prendere Vogliamo di spingere questo sasso fin dove ce lo fa spostare Ma forse questo serve per prendere la monetina Sì credo di sì Niente allora raga bisogna capire Ottieni un gomitolo Non ho capito Però comunque vabbè Non ho capito perchè Niente vabbè sleghiamo qua perchè altrimenti il filo non ci basta E dobbiamo rivolgnare il terreno Devo capire questo secchio Ah ce lo fa spingere più là Vediamo fin dove ce lo fa spingere Ah ok Ok Mi sembra qualcosa Mi sembra un ottimo Mi sembra qualcosa Mi sembra un ottimo Ah ok vedi cssb Per farci raggiungere Questo punto Ok 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 Ora ho capito ho capito ho capito Ci dava praticamente un punto di attacco in più Ok ce l'abbiamo fatta raga No Vabbè niente Stavo recuperando il filo ma è cazzo giù Allora continuiamo la nostra avventura qua Cos'è questo mulinello? C'è un altro corvo No Non so sfatto bene Vediamo un attimo Allora Allora Prima capiamo bene cosa bisogna fare Ok secondo me bisogna creare un ponte Quindi Vediamo un attimo Allora Creiamo un nodo qua Proviamo Eh però aspettate raga eh Eh sì ho capito però Adesso è così mi son fregato O no Ah no mi fa andare di qua Buono Vediamo Sì Ha funzionato Top Tac E c'è un altro nodo Ok Risoliamo Saliamo Saliamo Aspetta saliamo un attimo per capire se no Questa però non ci sono altri nodi Forse dobbiamo scendere Vediamo Sì C'è una pusta Ecco Ah ok no Pensavo fosse come l'aquilone che dovevi guidarla Ok Un altro ricordo No No sti ragnetti maledetti devo avanzare no, secondo me no facciamo una cavolata aspetta, dovrò tirare forse questo questo è un ammazzito e come faccio? ok ce l'ho fatta olè siamo creati un ponticello è un'altra spilletta? abbiamo finito anche a questo livello? buono una farfalla aspetta, ragazzi, a me arrivano anche i messaggi sul telefonino e pure sul computer che ho collegato praticamente tutto ci siamo, ragazzi abbiamo quattro spillette non so quanti livelli ci siano quante spillette ci siano, dirò il vero vediamo lunga camminata in montagna il cielo sembra lontanissimo da queste parti un respiro ne va alle dieci qui possiamo perdere noi stessi ma non ci smarreremo mai perché siamo a casa ho sbagliato ah c'era era in panna la macchina praticamente sono fermati e hanno fatto una piccola gita in mezzo alle montagne la spilletta lo stivale la busta che hanno usato per non bagnarsi i piedi che abbiamo usato noi per scendere per volare giù ebbene, dai ragazzi con questo terminiamo l'episodio questa foto non so cosa sia sinceramente non so se è non so un obiettivo speciale da recuperare durante i livelli eppure mi arriva ho sbloccato un obiettivo che dice hai completato un gomitolo non ho capito cosa sia un gomitolo forse recuperare magari tutti i punti i bottoni praticamente in un livello non so comunque con questo raga termino l'episodio spero che questa sera vi stia piacendo vi stia divertendo e mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale vi lascio i link in descrizione per seguirmi sui social ciao belli grazie a tutti grazie a tutti